bella righi e benvenuti in questo nuovissimo video con dandemagician tm tm salve perchè mi hai dato connessione persa per favore riconnettiti hai dato in partenza nooo mi devo riconnettere che spatti buongiorno buongiorno io ti vedo perchè non mi metto mica in f11 perchè non mi metto mica in f11 perchè non mi metto mica in f11 quanto è logico ciao Matt ciao vabbè il gioco è stupido e non mi metto mica in f11 quindi vuol dire che giocherò non in f11 però sta cosa mi dà fastidio yeeeh allora spiga qual è lo scopo di questo gioco dai ma non mi metto mica in f11 neanche a me che problemi ha sto gioco ma mi dice anche fullscreen vabbè questo gioco è bello praticamente noi entriamo nel sensore perchè noi entriamo nel sensore adesso dai inseguimi nell'ascensore entriamo nell'ascensore si ciao e praticamente sto gioco insegna come fare le torte eeeh e vi chiede se vi piacciono i waffle e voi cantarete do you like waffle do you like ok yes like waffle ed è molto sensato questo gioco vero finalmente dan è cambiato da è passato da fare magie a fare gameplay ma no è perchè bu è perchè nel mio canale ci vuole un po' di magia oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah ma che c***o sei morto adesso non c***o e che vale ho c***o te big cheese big cheese ma che d'ho falle ti giuro mi ho avuto un colpo e mi è venuto ah ti è venuto il colpicino al coricino uns 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 everybody put your hands anywhere 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 che belle canzone mamma mia si canto meglio io bella questa però voglio partecipare anch'io di partecipare si voglio partecipare anch'io sii siamo contro pronto no ho vinto io siiii nooo di un pelo fottiti fa un c***o di un pelo viva il doppio click ma dai che bella canzone viva il doppio click nel mouse siiii io sono una gallina swag io ho gli occhiali swag buck swag buck ok le mucche nooo queste mucche qua nooo quanta lina lì come se che faceva? che si faceva? come si faceva? come si faceva? siiii cadi cadi notate che non sembrano dei mugiti sembrano degli uri degli esorcisti ma io non so come si non mi ricordo come si faceva vabbè uh posso siiii posso mangiare una roba? sghere 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 cosa hai mangio? cosa hai mangio? i mangio i mangio mangiati le tortillas california 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 siiii ho la testa gigante viva sei intelligente si yeeeeh shak nado mio dio no please perchè cadono shak no please lasciatemi stare ma perchè cadono shak spiegami che problemi go 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 power ranger go go power ranger go 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 power ranger power ranger ah che ca power ranger sta succedendo power ranger ah comunque den può giocare adesso con me perchè den ha preso finalmente un computer nuovo yeeeh yeeeh e in calibre non sta laggando fantastico ora non laggala più abbiamo beccato il momento in cui va si yeeeh festeggiamo questo momento che den ha preso un computer nuovo siiii yeeeh yeeeh e hai persino una scheda invidia che non faccio che non mi ricordo come si chiama tipo 7 vabbè non mi ricordo che bello ma questa qua non è una scena di hit ma io mi ricordo che c'era tipo una scena di hit quando il ragazzo e hit volano in bici volano con la bici vabbè ehi elton john cambia musica ehi elton john cambia musica ehi e io faccio la ballina no vabbè che cazzo mi raccomando tanti like per questa serie wuuh si ci mettere nel copyright fantastico allora parliamo un po' noi ok basta la 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 ehi ok il degrado io faccio il gallo ok io faccio il gallo gallo cristallo no per poco uno un maschettaro un basketista un basketista un basketista perchè c'è qualcuno che ha ancora la palla? lui può perchè c'è evil girl best che è vero? e perchè la palla evil girl best donna lancia la palla ti piacciono le palle donna mmm bella bella donna mia qui c'è dei big cheese ciao big cheese rock rock go evil girl best go ladybug ma sono tutte donne è una guerra tra donne è una guerra tra donne aia lancia la palla donna donna lancia la palla è una notte senza scusione di colpi è di bella notte no è un pokemon buon bel lavoro evil girl best best non dai che faccio che ha evil girl best è bellissima mele 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 molla questa palla donna mi da fastidio oh ma una mi ha richiesto l'amicizia e l'accetto adesso c'ho come amica ladybug errei mh siii sexy perché cacchio No, questo qua va a mità Sapevo che Sono sopra a Big Cheese Big Cheese Sono sopra a Big Cheese E vado con il mio Big Cheese Andiamo su Con il mio Big Cheese Ma questa canzone qua l'ascolto anche E mi piace un sacco questa canzone Sì ma è bellissima sta canzone Sì ma è bellissima E me ne ascolto sempre Ah il fantasma La mia cresta è ancora più cresta Ora non sono un gallo con una cresta Sono un gallo con una mano che è ancora più crestosa Questo è Frankestein Che cacchio perché Perché l'ascensore è storto Perché è tutto buio Perché l'ascensore è storto Ah ok, non l'ascensore è storto Niente, meno male The Big Cheese è inutile In effetti Posso mangiarlo Posso mangiarlo No, no, no No No, no, 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 no No, no Sposto dei big mister cheese So già come va a finire questa So già come va a finire Ed ecco perché sto a destra E anche io Quello è la sinistra Allora No uomo Poverino Poverino E' il telefono che mi dice Vabbè sono le cose belle Della vita quando I subscribe Si chiedono Questo qua cosa fa nella vita normale Questo dorme No Sto registrando questo video alle 10 e un quarto di sera Quindi bene Oh qua c'è Fare di cosa succede almeno Perché altrimenti si scende da loro Quale cosa succede Succede che questo qua fa Entra e plaf Guarda Maestro Ma sei morto Ah no è morta lei Sfigata No anch'io sono morto Sfigati No c'è uno che si chiama Pedro Games Pedro Pony Va che storia Oh c'è Jim Carrey Icebag No c'è questo qua Cosa zainetto La cravatta Che cazzo Noo Questo qua no Ma dai arrivi nostro caro amico Adesso arriva Ah è vero Allora se arriviamo Anzi se Dan arriva a Mille iscritti Dan esce la faccia E chi te lo dice Seguitelo Seguitelo sui musicali Così vedrete la faccia Guarda se dici il nome E allora vi posso spiegare Perché mi annoiavo Non spuo cosa fare Guarda che se non sanno il nome Non la guardano Non la vedranno Eh appunto Te non dirlo Mi lascerò I link di musicali In descrizione No scherzo Apri No 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 Oddio Chi scorreggia Oddio chi scorreggia No 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 Che figata la cravatta di nerf Anche il cappellino di nerf No 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 Tanto nessuno muore qua No Ah speriamo Questa qua sarà l'ultima Stanza Di oggi Perché se no I bambini Non mandano No Che cazzo Che cazzo Ma che cazzo Ma che sono già morto io Ma io non vedo nessuno Io vedo l'ascensore Che si sta muovendo di là Ma io vedo che sta cadendo Addio Ma what the fuck Che Ma non ci sono dei blocchi invisibili Va che sto Amico Secondo me devi mangiare un pochino di più Secondo me Perché sei un po' troppo Ossa Che cazzo Si quello di ieri Il fantasma Sii Non Io spoilerò tutto Io non me lo ricordo mica Fa boom Fa boom Fa boom Ah Quanto Ma perché io muoio Ah ma uccide sto coso Eh uscide Ma io pensavo che arrivassero lì Fa wow E anch'io Però vabbè Quindi Questo video finisce qua Con la compagnia di Dan Magician Portare molti Video Di questo tipo Sempre su Roblox Perché Che è un gioco È un gioco Che ha È un gioco Intelligente E aiuta Intelligentissimo I neuroni A lavorare Esatto No Che è il bello Che ha un sacco di mini gioco Quindi È una Quindi per questo video è tutto Bella Dan di qualcosa Perché se no io stacco E dico ciao a tutti E ciao Ok Devo dire qualcosa Si Fai un appello al presidente Qualcosa Che è un gioco